Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna, rallentamenti invece sempre per traffico intenso in direzione Roma tra Firenze Sud e in Cisareggello. Sulla 1 direttissima versante Emiliano rallentamenti per traffico intenso anche tra il Bivio con la variante di Valico e Badia in direzione Roma. Un chilometro di coda invece in A15 a causa di lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla FIPI lì dove a causa di lavori per la messa in sicurezza del viadotto Ponzano si registrano due chilometri di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Treni per un guasta regnano sull'Arno e regionali sulla linea Firenze-Arezzo chiusi potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!